In piena attività la nuova Proloco di Castellamonte, oggi con una bella castagnata. Sì, siamo qua presenti da stamattina, adesso speriamo solo nel tempo che sia un po' più clemente nel pomeriggio, ci stiamo avvicinando a fare nuove cose e speriamo anche di riuscire a fare una bella manifestazione anche oggi. Piano piano non è stato facile comunque rimettere insieme la Proloco e ripartire? Sì, non è stato facile ma come si suol dire chi la dura la vince. Quindi con impegno e determinazione? Sì, e con l'aiuto anche di tutti i collaboratori presenti che sono instancabili e che hanno voglia veramente di fare qualcosa per la città. Si può dire che questo è il primo evento che organizzate perché prima avete comunque presenziato ad eventi organizzati dal comune? Sì, esatto, è il primo che organizziamo e adesso piano piano stiamo facendo ancora un po' di rodaggio e continueremo sempre di più a proporre anche cose nuove. C'è già qualcosa in cantiere o non si possono ancora scoprire le carte? Qualcosa in cantiere ci stiamo provando a studiarlo ma siamo un po' legati ancora un po' a delle cose pratiche e tecniche che sono ancora da sbrigare quindi vediamo un attimino tutto il da farsi.